Nata a Santo Domingo il 20 luglio 1978, si trasferisce in Italia all'età di 11 anni, andando ad abitare a Monte Catini Terme. Dall'età di 16 anni partecipa ad alcune sfilate organizzate da aziende di abbigliamento. Nel 1996, vince il titolo di Miss Italia a salsomaggiore Terme, e si classifica quarta Miss Universo 1997. Intraprenderà poi la carriera di modella professionista e, successivamente, di attrice studiando per un lungo tempo con Francesca De Sapio presso il Duse a Roma. Nel 2003 ha recitato nel film Il ronzio delle mosche e nella fiction Chiaroscuro, insieme a Nino Manfredi. Dal 2003 al 2005 è stata nel cast della sopopera Un posto al sole, nel ruolo di Barbara Cifariello, per cui vincerà anche il premio a Rechi d'Oro al Festival del Cinema di Salerno. Ha avuto una piccola parte nel film Oceans 12, 2004, di Steven Soderber, e in un episodio della fiction con Veronica Pivetti. Provaci ancora prof. 2007. Recentemente è stata impegnata a girare un un video con Andrea Boccelli e John Travolta e una campagna mondiale come testimonial per una nota marca di orologi. Insieme all'attore Gerard Butler.